L'estate si avvicina, si parte per le ferie e ogni anno di più ci si porta roba tecnologica presso. In questa puntata, che potrebbe essere una ripetizione della 153, vorrei adeguare la lista della spesa ai tempi correnti e ai prodotti disponibili. Tutti pronti? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Beat da novembre del 2015. Questa puntata sarebbe dovuta uscire lunedì 11 luglio 2022, in tempo per le partenze e in tempo per il Prime Day di Amazon, visto che molti dei link nelle note sono referral di Amazon. Domenica 10 luglio, più o meno a cena, mi è venuto un bel mal di gola e una tosse bruttissima, oltre più o meno alla voce da cavernicolo che non mi è troppo passata. Le condizioni per registrare non erano più accettabili, per questo la puntata è saltata. Visto quel che succede in giro, avevo un tampone di quelli da fare a casa, l'ho fatto e sono risultato positivo al Covid. Per farla breve, non sono stato malissimo, ma non sono stati giorni di pacchia qui in casa. La puntata quindi esce oggi, il primo lunedì, con condizioni accettabili per registrare. Mi scuso per il ritardo, soprattutto per l'argomento della puntata, che non mi va comunque di lasciar perdere, ma non ho potuto fare diversamente. Resta valido per chi parte tra un po' o per chi va in vacanza poi per settembre. Lo so, ci sono le due grandi linee di pensiero. Quelli che partono per le vacanze frugali, con meno tecnologia possibile, e quelli che invece vogliono avere tutto a portata perché gli piace così. Io vi faccio la carrellata. In base a quel che vi piace fare e dove andate, potete attingere o meno da questa lista. Magari vi serve per non dimenticarvi dei pezzi a casa. Divido la puntata in grandi categorie. Spero di non scordare io niente, ovviamente. Le basi, telefono e accessori. Raramente penserete di lasciare il telefono a casa, per questo sarà necessario che vi portiate tutto il necessario per caricarlo la sera e tenerlo in vita durante il giorno. Soprattutto se lo usate anche come mappe, navigatore, macchina fotografica, traduttore simultaneo, sistema di pagamento e così via. Se si scarica è un problema. Partendo dal presupposto che magari avete anche uno smartwatch o un braccetto che conta i passi, i dispositivi da caricare diventano più di uno. Come prima cosa, visto che in hotel o in casa mai troverete più di una presa comoda, portatevi una ciabatta elettrica con almeno 5-6 prese. In questo modo, tra l'altro, se andate all'estero, vi serve un solo adattatore e non uno per ogni caricatore USB. Uno per la macchina foto e così via. Magari anche una presa multipla, così avete un po' di disponibilità da ogni lato del letto. Portatevi almeno un cavo per ogni dispositivo che dovete caricare. Io comunque ne ho sempre due. Prendete i lunghi almeno due metri, poi mi ringrazierete. Uno lo lascio in casa o in albergo, uno lo porto con me, perché mi potrebbe servire da collegare al battery pack. Sì, facile che vi servirà un battery pack, perché magari a metà giornata il telefono sarà scarico e se avete la carta di credito in Apple Pay o Android Pay, poi non potete più pagare niente. Perché è più di un cavo? Perché i maledetti si rompono sempre nei momenti sbagliati e passare da vacanza a cercare il cavo di scorta invece di andare a visitare i posti dove vogliamo stare è fonte di stress. E in vacanza quello che si vuole è non avere stress. Ho già nominato un telefono a testa, un orologio, un battery pack. Siamo a sei dispositivi da caricare per ogni sera. Ovviamente se si va in viaggio in due. Perché al mattino è bene partire sempre con tutto ben carico. Ecco perché vi serve una ciabatta e almeno un caricatore USB con un po' di connessioni. Con i tempi moderni sarebbe bene cercarne uno con le uscite USB-C Power Delivery. Se deve caricare un po' di dispositivi cercatelo da almeno 65 watt. Prima di partire assicuratevi che il caricabatterie possa caricare tutto quello che serve e che non abbia problemi di sorta. potrebbe non essere piacevole arrivare in albergo o in casa, infilarlo nella presa elettrica e accorgersi che ve lo siete portato rotto. Capita. Se andate negli Stati Uniti o in paesi che non hanno la 220 volt assicuratevi di avere i caricatori compatibili con tutte le tensioni da 100 a 230 volt. se no poi sono difficoltà. Rimaniamo in tema telefoni. Se rimanete in Italia la connessione a internet non sarà un problema. Nei paesi europei anche, ma verificate prima con il vostro gestore quanti dati avete in roaming e come potete verificarli che poi se finiscono il costo sale. Per fortuna da luglio 2022 le soglie sono leggermente aumentate. Attenzione nel Regno Unito che non è Europa, ma in certi casi il roaming è ancora valido. Se invece andate extra Europa e volete la connettività avete due possibilità. La più scomoda è comprare una saponetta 3G o 4G di quelle che si mette la sim dentro e poi generano la wifi per tutti i dispositivi connessi. In questo caso dovete cercarvi la sim da comprare sul posto o da ordinare prima della partenza. Ed ecco un altro dispositivo da caricare tutte le sere o da tenere collegato al battery pack durante il giorno. Se invece avete un telefono che supporta la eSIM, ne ho parlato nella puntata 223, potete ordinarne una in base a dove andate e attivare il suo piano dati quando siete nel posto. Nelle note dell'episodio vi lascio qualche sito da cui andare a scegliere. Avere la eSIM è una comodità pazzesca. La comprate, fate la foto al QR code, il telefono se la registra. Quando siete nel paese estero attivate il traffico dati su quella e il gioco è fatto. Nessun problema e attività davvero veloce e pronti per godervi la vostra vacanza. Fare foto video e postarli su tutti i social che volete o quasi. Ricordatevi che in certi paesi, come per esempio la Cina, alcuni social network non sono accessibili e usare le VPN è un po' pericoloso. Si arriva a pene come l'arresto. Se andate in paesi poco o diversamente democratici, informatevi prima su cosa funziona e cosa no, anche solo per rimanere in contatto con amici e parenti. In ogni caso la VPN vi potrà servire, anzi ve ne potrebbero servire due. Quella per collegarvi a casa vostra tipo PI VPN o Tayscale, se ve la siete fatta, per raggiungere la casa domotica, i sensori, le telecamere, luci, ovviamente se non passano dai vari servizi cloud. E la VPN per la navigazione protetta, che è assolutamente necessaria quando vi collegate alle wifi pubbliche, che siano in albergo, nei locali, in Italia o all'estero. Davvero fate un abbonamento di un mese e usatela. Come al solito io vi consiglio AirVPN che conosco e so come lavora. Davvero conosco il fondatore ed è persona di assoluta fiducia. Non è una frase sponsorizzata. Macchina foto o riprese video. Qui ognuno fa quel che gli pare, sempre. Il telefono, la compatta, la reflex, la mirrorless o tutte le vie di mezzo possibili e immaginabili. Da 100 grammi di attrezzatura a 10 chili. Le indicazioni di base che mi sento di darvi sono generiche da adattare al contesto. Non imbarcate in aereo il materiale fotografico mai. Apro una parentesi. Quest'estate, se potete, non prendete proprio l'aereo, che è un vero e proprio disastro e rischiate di rimanere intrappolati alla partenza, al rientro o in qualche scalo intermedio. La situazione dei voli è drammatica e il rischio che vi cancellino, il volo, senza darvi alternative, è elevatissimo. Anche il rischio di perdere il bagaglio in stiva è talmente elevato da raggiungere praticamente la certezza. In base a quello che vi portate, assicuratevi sempre di avere un numero di batterie congruo, sicuramente non inferiore a 2, in modo da non trovarvi a secco durante la giornata. ricordatevi, più si usa il display, più la batteria va giù, più siete al freddo, se dite che bella parola, freddo, più la batteria va giù. Assicuratevi di avere abbastanza capacità di memorizzazione. Pensate di riempire una memoria da 16 giga? Bene, portatevi 2 memorie da 16 giga almeno. Una volta in Tanzania, una famiglia ha perso mezza giornata per cercare la memoria della sua macchina foto. Si è persa un tour e l'ha pagata un sacco di soldi. Come a casa, anche in vacanza, la sera fate il backup delle foto, ve lo dico perché poi vi capita come a me che avevo delle bellissime foto di Venezia by night con la nebbia e nessuno in giro e le ho perse tutte quante quando una simpatica manolesta mi ha portato via la macchina foto con la memoria dentro perché la sera in albergo non le ho scaricate sul computer. Backup vuol dire salvarle su un servizio cloud, se le fate con il telefono e avete una wifi in albergo o in casa, oppure mettervi lì con calma e scaricarle dalla macchina sul pc portatile o su un disco esterno. Il disco esterno prendetelo SSD che se cade non rischiate di romperlo, ormai non costa più così tanto. Per tornare al discorso carica batterie regolatevi in modo da partire sempre con tutte le batterie cariche al mattino. Un accessorio molto interessante per fare video o timelapse davvero gradevoli da rivedere al rientro è un gimbal. Ci mettete il telefono, tenete il gimbal per il manico e lui terrà il telefono stabile e dritto o farà il movimento giusto per il timelapse, seguirà le varie persone e altre mille cose bellissime. Non costa poco ed è un altro pezzo da caricare tutte le serie, ma vi assicuro che il risultato è garantito. Ci sono gimbal dove potete mettere il telefono o quelli con l'apparecchio fotografico già all'interno del dispositivo. Conosco i prodotti di DJI e vi assicuro che sono davvero davvero interessanti. Da quel che ho visto è un risultato migliore del drone per due motivi. Costa meno e si può usare ovunque, in giro usare il drone è diventato molto difficile. Ci sono divieti praticamente dappertutto. Il pc portatile, serve davvero avere appresso un mattoncino da 1, 2 o 3 kg per tutta la vacanza? Dipende da moltissimi motivi. Ovviamente se dovete lavorare non si discute, vi serve, punto. Se fate molte foto con la reflex o molti video con il gimbal, drone, gopro o simili, secondo me il pc portatile è quasi d'obbligo. Vi serve per fare copia delle foto fatte durante il giorno e la sera, in un momento di relax, potete rivederle, cancellare quelle brutte e iniziare a sistemare o a fare un po' di montaggio, perché poi quando tornerete dalle vacanze con 1500 foto o 6 ore di video non avrete più assolutamente voglia di mettervi lì a sistemarle tutte e rimarrà un lavoro mai compiuto come quelle dell'anno prima, eccetera. Inutile dire che se avete il pc dovete portarvi l'alimentatore per caricarlo quando serve. Se siete in albergo potete lasciarlo in camera, se è un viaggio itinerante ve lo dovete portare dietro. Se pesa poco ovviamente è meglio. Se avete la fotocamera e il pc è necessario che il pc possa leggere i dati dalla fotocamera o dalla scheda, per questo mi raccomando ricordatevi che serve un adattatore. Se invece siete molto offline e usate solo il telefono esistono delle chiavette che collegate al telefono scaricano tutte le foto fatte giusto per averne copia. Un piccolo dettaglio. Anni fa sono andato a seguito della moglie in trasferta, lei era lì per lavoro, io mi sono portato un po' di cose da fare. Ho aperto il Mac ed ecco che è andato in bootloop. Niente, non partiva più. Avevo tre giorni di cose da fare e senza il portatile non avrei potuto fare niente, ma avevo nello zaino, giuro per caso, il disco con il time machine fatto la sera prima di partire. Ho collegato il disco, ho fatto il ripristino e tutto ha ricominciato a funzionare. Ora non dico che è necessario portarsi tutti i pezzi di ricambio del pc in vacanza, ma se potete fate il backup completo del sistema e portatevelo dietro. Diciamo che se potete fare il restore avete una piccola ruota di scorta. Chiudo con una lista di accessori generali, comodi, che non dovrebbero mancare mai nella borsa delle vacanze insieme allo spazzolino e alle medicine. Un cavalletto dimensionato in base al dispositivo che vi state portando dietro, ovviamente se è una macchina pesante deve poterla reggere, perché la foto notturna o una lunga esposizione ci scappa sempre e voi non avete il cavalletto per fare il tempo di scatto a 10 secondi. Le reflex o le mirrorless si possono anche mettere su su cavaletti piccoli e questi appoggiarli nei posti più impensati. Non è necessario portarsi il cavalletto alto da 8 kg. Una lampada a batterie con la luce viola anti zanzare e la resistenza per friggerle. Credo che sia stato l'acquisto estivo migliore degli ultimi anni, mai smetterò di ringraziare Andrea. La uso spesso anche a casa. E sì, è un altro pezzo da mettere sotto carica, non la sera perché la usate per la notte ma durante il giorno. Lucine a led che si finano nelle prese usb per fare da punto luce notturno per chi non vuole dormire proprio al buio. Sono molto interessanti. Nelle case vacanza o negli alberghi non ci pensa mai nessuno. Ho parlato di circa 20 cavetti e dovreste averne di molti tipi diversi perché anche se l'Europa vuole fare un caricatore unico vi renderete conto che attualmente ogni dispositivo o quasi ha il suo connettore usb-c, lightning e micro usb. Ma alcuni dispositivi come orologi e braccialetti hanno i loro connettori proprietari magnetici. L'unico modo per sopravvivere è avere un sacchetto fatto apposta per tenerli tutti in ordine. Io lo uso da anni ed è davvero di una comodità pazzesca. So che prendo quello e ho tutti i cavi per ogni cosa che ho. Ultimamente nei locali, negli hotel, negli aeroporti sono comparse le prese usb per ricaricare i nostri dispositivi. Il problema è che non sappiamo che cosa c'è dietro a quella porta usb. Nel mondo la gente è mediamente cattiva quindi non ci si deve fidare. Per questo esistono degli adattatori che si attaccano alla presa sconosciuta e a questi potete collegare il vostro dispositivo. Il loro mestiere è quello di far passare solo i due pin necessari alla ricarica e non quelli della parte dati. Che potrebbe essere usata come veicolo di attacco al vostro dispositivo. Questa cosa non si può fare con usb-c o meglio si può fare ma si perde tutta la parte di power delivery. Perché è necessario che il dispositivo, cavo e alimentatore comunichino tra di loro per capire che tensione è corrente usare per la ricarica. Se avete un telefono power delivery è meglio se usate il vostro alimentatore. Se siete un post malettoni potete portarvi appresso il famoso router giallo per configurarlo come dispositivo di passaggio di sicurezza nelle wifi pubbliche. Non sto a farvi tutto lo spiegone tecnico ma potete collegare il telefono alla wifi pubblica e autenticarvi. Poi vi collegate al router giallo. Gli passate il MAC address del telefono sulla wifi esterna in modo che faccia finta di essere il telefono. Lui si collega alla wifi pubblica, genera la wifi privata alla quale potete attaccare tutti i vostri dispositivi e in più attiva la VPN che avrete precedentemente configurato per navigare senza farvi spiare dal proprietario dell'access point pubblico. Sembra difficile ma non lo è davvero. Vi ho parlato di un sacco di oggetti. Nelle note dell'episodio trovate tutti i nomi, i riferimenti e i link. Quelli su Amazon sono sponsorizzati. Voi non spendete di più e a me arriva dopo molto tempo una piccolissima parte dei vostri acquisti. Ultime due note fondamentali. Fatevi un'assicurazione sul viaggio che copra le spese sanitarie se siete fuori in Europa e il rientro con il volo di emergenza in caso di problemi di salute gravi. Non fate come quelli che hanno avuto la figlia con la disenteria del viaggiatore, erano dall'altra parte del mondo e poi hanno chiesto alla farnesina di intervenire. Bloccate il telefono col PIN, mettetelo lungo. Non tenete carte di credito e bancomat con il PIN scritto sopra. Scrivetevi su un foglio i numeri di emergenza e nel caso in cui non abbiate il vostro telefono funzionante a disposizione almeno sapete quali sono i numeri da chiamare perché di solito non ce li si ricorda. Fatevi un tesserino di cartoncino con i vostri dati, un numero di contatto di emergenza, gruppo sanguigno, eventuali farmaci e allergie. Non si augura nulla di brutto ma non si sa mai. Meglio essere preparati sempre. Sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi. Il podcast non ha pubblicità. Per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo, gli spiegisco gli adesivi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di bit e anche un piccolo network su extra.pillole di bit.com.prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Ringrazio, inaugurando una nuova piccola sezione, i donatori del podcast di queste settimane, Giorgio e Lorenzo. L'avete sentito nei contatti, ma lo ripeto brevemente. Se donate più di 5 euro e mi comunicate l'indirizzo, vi spedisco gli adesivi. Ricordatevi che se donate con Satispay non ho l'indirizzo in automatico come su PayPal. Me lo dovete mandare compilando il form sul sito. Grazie, le donazioni sono il carburante per far andare avanti questo podcast. Si parte per le vacanze e magari si vuole ascoltare un po' di podcast nuovi in viaggio o sulla spiaggia per cercare di non sentire i discorsi folli dei vicini di Ombrellone o i bambini che urlano. In tempo di pandemia è necessario ricordare che non esiste solo il Covid in questo mondo e che se c'è questo nuovo virus non è che gli altri si sono messi in un angolo e stanno aspettando per continuare a diffondersi. A ricordarcelo ci pensa Mario Calabresi che dai microfoni di Cora Media con un normale feed RSS non in esclusiva ha realizzato due podcast davvero molto interessanti. Un filo rosso sulla pandemia di HIV con la storia di questa malattia dai primi casi fino alle cure dei giorni del giorno d'oggi e il secondo un filo blu ancora in corso sulla tubercolosi ascoltando i numeri vi renderete conto che non sono da sottovalutare ancora oggi e che noi da questa parte del mondo siamo quelli fortunati. Avete ascoltato Pillole di Bit questa era la puntata 237 e io sono Francesco vi do appuntamento al prossimo episodio spero come al solito il lunedì alle 4 del mattino. Vi ricordo che Pillole di Bit è un podcast indipendente presente su ogni piattaforma senza esclusiva lo cercate lo trovate vi iscrivete e se siete in partenza buone vacanze. Ciao!